Per la settima serie, alla 1, Giorgia Portesi, alla 2, Sara Caterina Cervi, alla 3, Giulia Erpini, alla 4, Irene Vivaldi, alla 5, Federica Romagnoli, alla 6, Giulia Gorla, alla 7, Chiara Burini. Previazione 200, stile libero assoluti, medaglia di bronzo per Lorenzo Beretta, gesti sportivi, sport, 1, 53 e 32, medaglia d'argento, Marco Lorenzoni, Molanuoto, 1, 52 e 39, e medaglia d'oro per Matteo Lamberti, Gantim, 1, 50 e 86. Grazie. 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 Grazie.